Ben trovati! Allora, sono un po' sparito dal radar a causa di una brutta caduta in sci che ho fatto settimana scorsa a causa della sua seguente influenza che ancora, come forse sentite, mi affligge, che mi rende un po' simile a un basso russo almeno io, che ho una voce terribile, una volta sempre che abbia una voce bella quindi volevo ancora prendermi qualche giorno di stacco anche perché poi sono queste le occasioni, quelle di riposo forzato, in cui si ha finalmente la possibilità di fermarsi a pensare, a programmare e cercare di capire se la direzione in cui si sta andando, che sia lavorativa, che sia quella del canale YouTube e qualunque altro tipo di scelte che stia facendo è quella giusta, se ci sono qualcosa da rettificare e così via quindi volevo prendermi ancora qualche giorno di riposo ma poi sono stato colpito da questa notizia che è deflagrata come un petardo in chiesa è stata abbattuta prima dalla BBC e poi insomma è stata riportata da tutte le agenzie di stampa nel mondo del resto di Ian Latham König direttore inglese di fama mondiale direttore che ha diretto più volte tutti gli ensemble della BBC, la London Philharmonic, la Royal insomma tutte le più grandi orchestre l'orchestra del mondo qui in Italia ha diretto il reggio di Torino insomma in molti molti enti adesso doveva andare a dirigere la Torra del Lago ed era anche in odore addirittura di nomina per la direzione artistica tutte cose che probabilmente non accadranno perché Latham König è stato arrestato da Scott Hanyard e con un'accusa estremamente grave estremamente infamante cioè quella di essere non si sa ancora in quale maniera e non si sa ancora a quale titolo coinvolto in una questione legata alla pedofilia allora chi segue le cose della lirica sa che ci sono stati tantissimi casi in passato in cui anche grandi grandi nomi sono stati coinvolti da da accuse riguardanti molestie o addirittura violenze sessuali che sarebbero state perpetrate nel corso degli anni in particolare dopo tutto insomma il periodo del Me Too sono venuti fuori un sacco un sacco di un sacco di casi però se la questione molestie o peggio ancora violenze è già di per sé inaccettabile e terribile se si riguarda persone maggiorenni è ovvio vi rendete perfettamente conto che altra cosa è quando la vittima o presunta vittima non sappiamo ancora i dettagli di cosa sarebbe successo è minorenne e non parliamo neanche se si tratta di un bambino evidentemente perché in realtà il comunicato di Scott and Yard parlava di un child quindi proprio di un bambino non di un ragazzo non di un giovane o parlava proprio di un bambino e quindi se vi rendete conto che la questione è delicatissima perché ovviamente questo è il classico caso il classico caso in cui si risvegliano in noi tutte le tendenze a non essere più garantisti e a diventare immediatamente forcaioli io sono per mia natura un garantista e per me una persona è innocente finché non viene dimostrato il contrario nel caso italiano con almeno tre gradi di giudizio altri sistemi in altri stati sono un po' più sbrigativi però per me resta valida comunque la presunzione la presunzione di innocenza e cerco di non farmi mai prendere da smani di farmi giustizia giustizia da solo anche se capisco perfettamente che quando si tratta delle nostre piccole creature diventiamo tutti incredibilmente sensibili e spesso anche molto molto aggressivi non è appunto la prima e sicuramente non sarà l'ultima volta che che una persona in vista parliamo al campo della lirica ma ovviamente insomma non è che in altri campi sia tanto tanto meglio che una persona appunto viene coinvolta in un'affera del genere chiede l'ambiente e sta benissimo il caso di un famosissimo direttore orchestra americano di cui non facevo nome semplicemente anche perché è ormai passato miglior vita e quindi non non avrebbe senso nominarlo ma chissà sa di chi stiamo parlando che ebbe una serie di problemi non solo legati appunto ad accuse di molestie fatte da da maggiorenni ma soprattutto una lunga serie di denunce fatte da minorenni che portano che portano praticamente alla fine della sua della sua carriera anche se poi era abbastanza avanti con l'età poi poco dopo passò a miglior vita e quindi quindi alla morte bene o male mette un pialla tutto e rimette tutto rimette tutto in pari ora in una situazione così delicata è chiaro che la questione è duplice c'è una parte c'è la parte giudiziale processuale l'altra parte c'è quella etica diciamo così partiamo dal concetto che in un caso del genere io mi auguro sempre che la persona restata sia colpevole me lo auguro perché quantomeno se è colpevole avrà modo di scontare una pena e di pagare il prezzo delle sue delle sue male azioni perché spero che sia colpevole perché quando una roba del genere ti travolge anche se sei innocente o se poi vieni scagionato oppure se vieni assolto dal tribunale o se ti chiedono scuse e ti danno anche un sacco di soldi di risarcimento per averti infangato eccetera eccetera la tua carriera è comunque finita soprattutto in casi ovviamente che riguardano presunti usano sempre l'aggettivo presunti finché non c'è qualcosa di una verità giudiziale da raccontare presunti abusi su minori evidentemente e una roba del genere comunque è la fine della tua carriera perché anche se poi ne esci pulito pulito non è poi uscito pulito diciamo anche se poi ne esci scagionato ecco diciamo così resterà sempre comunque il sospetto resterà sempre il sospetto eh ma chissà magari se l'è cavata eh ma questo qua chissà che gira aveva chissà quali amicizie avrà pagato poi insomma si va spesso anche un po' nel qualunquismo e vabbè quello che mi dà ulteriormente da pensare è che se Scott Ndiard è appunto divenuta a una decisione così grave come l'arresto di un personaggio comunque molto noto a livello mondiale voglio sperare voglio immaginare che abbiano delle insomma delle prove concrete a loro eh al loro arco insomma che abbiano veramente delle motivazioni importanti insomma perché poi in queste cose diciamoci pure la verità finché sei l'illustre signor nessuno a chi se ne frega e spesso e volentieri si sbatte il mostro in prima pagina e poi che fine fa questo signor Rossi non importa a nessuno eh se è una persona di una certa visibilità una persona di una certa notorietà una persona che riverse un ruolo una certa anche se vogliamo all'interno di una certa elite culturale che non può essere quella della musica classica lirica beh capite che il discorso evidentemente è diverso insomma io e probabilmente una qualunque forza di polizia credo o un qualunque procuratore credo insomma che ci penserebbe bene prima di incriminare oltretutto ripeto con un'accusa così grave non è stata accusata di aver rubato una merendina al supermercato una persona ben sapendo che poi la cosa può portare completamente alla distruzione della sua carriera adesso Leitham Koenig è uscito su cauzione come si usa nei paesi anglosassoni e adesso il 9 di febbraio dovrà tornare davanti al tribunale per affrontare le gravissime accuse che gli vengono che gli vengono volte per cui puoi dire e questo è l'aspetto come ho detto prima processuale giudiziario diciamo così poi c'è un aspetto etico se vogliamo cioè tanti dicono che una persona che viene comunque colpita dal sospetto del genere dovrebbe comunque dimettersi dalle cariche soprattutto se sono cariche pubbliche dove per pubbliche intendo delle cariche per esempio parlando di un campo musicale mettiamo se uno è a capo di un'orchestra di stato quindi non di un'orchestra privata ma di un'orchestra pubblica la vulgata dice comunque dovresti dimetterti un po' come si dice spesso con i politici hai ricevuto l'avviso di garanzia ah devi dimetterti e poi dovrai dimostrare la tua innocenza salvo il fatto che se poi e in qualche caso è successo i politici insomma che sono stati travolti da un'indagine giudiziaria che poi è finita in niente e sono stati completamente scagionati assolti nel frattempo erano passati x anni nel frattempo la loro carriera politica era finita e in quei casi chi devi ringraziare per altri versi c'è chi dice se tu ti dimetti in qualche maniera è come un ammettere una missione di colpevolezza fondamentalmente perché se ritieni veramente di non aver fatto niente di cui doverti vergognare niente di cui doverti preoccupare non vedo perché dovresti dimetterti il problema che c'è sempre stato ma che in particolare dopo le manifestazioni del mito di qualche anno fa è diventato particolarmente urgente pressante è che poi la rete porta tutta una serie di linciaggi per fortuna in maggior parte dei casi non fisici ma comunque linciaggi mediatici che portano volenti o nolenti alla distruzione mediatica della persona e ripeto di una persona che che ancora non è stata condannata per nulla non c'è stato ancora un processo c'è un'accusa ok perché essere arrestati vuol dire che c'è un'accusa nei tuoi confronti l'accusa potrebbe anche non reggere poi in tribunale potresti può anche dire assolti quindi non è che perché non viene arrestato dobbiamo pensare che solo perché non viene arrestato in automatico ha fatto quello di cui quello di cui lo accusano probabilmente in molti casi è vero perché si presuppone che l'arresto appunto abbia alla propria base delle prove che proverebbero la culpevolezza ma non si è ancora passati attraverso il giudizio di un tribunale insomma quindi attenzione a puntare il dito e a dire sicuramente quello ha fatto è accusato di e ripeto finché non viene dimostrata la sua culpevolezza in un'area tribunale per me in un'aula di tribunale per me vale la presunzione di innocenza ma il problema qual è uno potrebbe anche non dimettersi uno potrebbe dire e forse lo direi anch'io se capitasse a me ma scusate io ho la coscienza post sono sicuro non ho fatto quello di cui mi accusano sono sicuro che quando andrò in tribunale smonterò tutte le accuse e si verificherà che non ho fatto quello di cui mi accusano per cui perché dovrei adesso rinunciare al mio lavoro alla mia posizione e agli impegni che ho preso e la cosa se vogliamo ha una sua ha una sua logica il punto è che oggi come oggi le direzioni artistiche delle varie orchestre i vari teatri proprio non amano questo genere di pubblicità cioè tenete presente che poi ci potrebbero essere anche dei casi in cui il direttore si presenta e magari i cantanti o l'orchestra addirittura potrebbero fare una manifestazione contro di lui perché non lo vogliono sul podio e quindi questa cosa poi crea problemi sindacali problemi contrattuali oppure potrebbe esserci una protesta da parte di una parte del pubblico abbiamo visto tante volte i famosi cartelli fuori dai a sostegno o nella maggior parte dei casi contro qualcuno che è stato accusato di qualcosa e sembra niente poi se vogliamo forse da noi in Italia questo genere di manifestazioni accadono relativamente poco noi siamo un po' più leoni da tastiere da questo punto di vista ma nel mondo anglosassone insomma queste cose vengono percepite in maniera molto forte in maniera molto forte e spesso veramente causano la fine di un personaggio anche di personaggi importantissimi pensate a Epstein pensate a Weinstein cioè gente che era ricchissima potentissima all'interno del show business eppure uno è ancora in prigione ci resterà credo per un altro centinaio di anni e un altro si è suicidato in circostanze poco chiare aggiungete poi che molti teatri hanno una sorta di clausola di amoralità dove per clausola di amoralità si intende non tanto un comportamento che di per sé sia discutibile ma solo un comportamento che di per sé sia passibile di una condanna penale evidentemente perché comunque il teatro d'orchestra non ha piacere ad abbinare il proprio nome e la propria faccia diciamo così a una persona che abbia soprattutto un certo tipo di un certo tipo di trascorso giudiziari perché ripeto se si trattasse semplicemente di un kleptomane anche il kleptomane commette un reato ruba però giustamente insomma è chiaro che un conto è rubare una cosa in un supermercato e un conto è una molestia sessuale è chiaro che sono due pianeti mostruosamente diversi che hanno al di sotto una gravità intrinseca molto diversa però al netto di questo colpevole uno e colpevole l'altro però nei confronti del kleptomane diciamo è una malattia non è in fondo una cosa che li possa controllare più di tanto mentre sull'altro aspetto giustamente sia chiaro giustamente non abbiamo lo stesso grado di tolleranza e di benevolenza per cui in molti contratti che si stipulano con il direttore orchestra c'è scritto che qualora il direttore orchestra dovesse mettere in atto un comportamento che possa essere pregiudizievole per il buon nome dell'orchestra o del teatro l'orchestra e il teatro hanno diritto di riuscire dal contratto senza nulla dovere al direttore poi al contrario poi può essere scritto una causa per danni oppure il contrario il famoso direttore di cui parlavo prima quello americano che deve essere scomparso fece causa addirittura a uno dei teatri più importanti del mondo perché fu messo la porta in seguito a queste accuse e la vinse pure per cui portò a casa anche ai tempi più di 3 milioni di dollari quindi una cifra anche abbastanza importante e voi cosa ne pensate credete che un direttore dovrebbe dimettere il proprio incarico soprattutto se si tratta di un incarico pubblico e o anche da un incarico eventualmente privato nel caso fosse anche solo accusato di un reato di questa gravità oppure credete che uno è innocente fino a prova contraria e quindi non dovrebbe dimettersi scrivete nei commenti cosa ne pensate e ci aggiorniamo in un prossimo video appena avremo degli aggiornamenti su questa incresciosa faccenda alla prossima